Mi sembra doveroso fare un video, un pensiero, rivolto a Napoli, alla città di Napoli, al calcio Napoli, per questo bellissimo campionato che ha stravinto, non vinto. Ma ci sono degli aspetti per quello che riguarda la simbologia, le metafore, la matematica, la numerologia, che sono veramente importanti. Il fatto stesso sì che l'anno scorso a settembre dissi che il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto, certo, ma ci sono degli aspetti particolari, in quanto tutta Italia è felice. Tutta Italia è felice perché il Napoli ha vinto lo Scudetto, perché il popolo napoletano, mi piace chiamarlo così, popolo napoletano, è diverso dagli altri italiani, è un popolo più loro, cioè diciamo che è un'Italia a sé, è un'Italia festosa, è vedere che i napoletani fanno grande festa, anche per il calcio, è qualche cosa di gradevole, un qualche cosa di positivo, perché alza il tono emozionale agli italiani. Che cosa dicono le metafore? Le metafore dicono che a Napoli ci sono tanti fuochi d'artificio, giusto come la città d'Italia, forse quella del mondo, con più fuochi in assoluto. Ma perché questo a livello simbolico? Perché gli abitanti di Napoli a livello proprio di cervello arcaico rappresentano il loro vulcano, il Vesuvio, quindi il Vesuvio fa fuoco e loro a livello inconscio che cosa fanno? Fuoco, fanno scintille, no? Come è una cosa molto bella vedere questo sangue sacro di questo San Gennaro, ok? Che dopo 33 anni il Napoli vince lo scudetto, che vuol dire tra virgolette anche miracolo. E quindi complimenti a Napoli, complimenti a Spalletti, complimenti a Osimè, a Varascheglia, a tutti i calciatori del Napoli, quindi sono sicuramente da festeggiare, è una cosa veramente gradevole. Come è una cosa gradevole? Vedere che in questo momento il calcio in questo momento si sta unendo, perché sono dell'avviso che la vittoria di Napoli faccia bene al calcio italiano, ma anche al popolo italiano. E ripeto, per me Napoli non è una città d'Italia, per me Napoli è un popolo italiano, è un pensiero, è un popolo diverso, sono più calienti, sono più focosi, sono più forti. Se vince lo scudetto il Milan, l'Inter, la Juventus, per quanto poco è una cosa abbastanza fredda, ma senti quanto vince il Napoli, senti proprio che il popolo si sveglia, vedi proprio che c'è qualcosa di forte, di forte, di forte che bolla in pentola. Una cosa geniale poi è stata quella di intitolare lo stadio Diego Armando Maradona. E dopo due anni il Napoli vince lo scudetto. E mi auguro che lo possa anche rivincere negli anni futuri, come possa magari anche conquistare la Champions League. Nei prossimi anni, secondo me, ci saranno sempre più napoletani nel mondo e pertanto anche il livello del merchandising, secondo me, faranno un grandissimo risultato. In ogni caso è incredibile come Spalletti è un codice 7, con Karma 7, come anche il presidente dell'Orentis è un Karma 7, come Napoli 7, come ieri, il 4 maggio del 2023 è un 4 Karma 7, come nel Napoli 7. E 7 proprio parla di spiritualità, 7 parla di Napoli, 7 parla di fede, 7 parla anche di sacrificio per la fede. Ed è veramente questo inno meraviglioso al grandissimo San Gennaro che io veramente voglio bene, adoro, trovo che sia un santo veramente potentissimo, ma veramente potente, 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 potente. Comunque complimenti a Napoli, complimenti alla città di Napoli. Sono veramente felice di questo risultato che hanno avuto da italiano, ma soprattutto da persona buona che riconosce un popolo. Perché, ripeto, per me Napoli è un popolo, non è Italia. È un popolo dell'Italia, è un popolo a sé. È un popolo dove, secondo me, l'Italia dovrebbe proprio ripartire da lì. I napoletani dovrebbero proprio dare calore, perché l'intestino dei napoletani è un intestino che parla di vulcano, è un intestino che parla di madre terra, è un intestino che parla di verità. E pertanto mi auguro che questa verità arrivi ai loro cuori e che abbiano la possibilità di inondare di positività, gioia ed abbondanza anche il resto d'Italia. Ciao, buona giornata a tutti.